Sabato 10 aprile 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio BM. Come di consuetudine l'edizione del sabato è dedicata alla lettura del settimanale L'Amico del Popolo. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nell'ultimo numero che abbiamo ricevuto. Ecco qui la prima pagina, contagi in callo ma serve attenzione. Notizia principale quindi dedicata all'aggiornamento riferito all'emergenza Covid-19 in provincia di Belluno. L'USL prosegue con la campagna vaccinale. La parola d'ordine è accelerare. Elettrodotti Terna ha annunciato l'interramento. Questa è la foto di copertina. Una prima parte delle linee elettriche della Val Belluna sarà interrata. Per la seconda parte sarà convocato a brevissimo un tavolo tecnico in cui province comuni concertino con Terna i prossimi interventi da mettere in campo. Nel Fondo Welfare anche le donazioni da parte dei lavoratori delle imprese per dare un aiuto a chi si trova in difficoltà. Questo è il progetto del Fondo Welfare Dolomiti. E ancora altri richiami della prima pagina dell'Amico del Popolo. Società, nuova attenzione verso la montagna. Politica alla provincia secondo padrin. Chiesa locale, i messaggi della Pasqua. Industria preoccupano a Cici e i della Standard. Questa quindi è la prima pagina dell'Amico del Popolo. Addentriamoci al suo interno. Ecco la constata rubrica in provincia e nel mondo. Rinnovata attenzione verso la montagna come comunità di persone che la abitano. Lo scaffare dei libri si sta arricchendo di nuovi contributi sul tema. Monitoraggio. L'incidenza finalmente crolla. Contagi in calo e comuni belunesi più puliti. Per non vanificare i risultati. Avanti con il rispetto delle regole e i vaccini. Ed ecco che troverete in questa pagina dell'Amico del Popolo. Una mappa della provincia di Belluno con l'incidenza settimanale su 100.000 abitanti suddivisa per i singoli comuni. Come possiamo vedere diciamo che c'è un netto miglioramento rispetto alla settimana precedente. E a proposito di provincia ecco l'intervista dell'Amico del Popolo al presidente della provincia di Belluno Roberto Padrina. La provincia può e vuole essere riferimento e cabina di regia. L'intervista a Roberto Padrina è presidente a Palazzo Piloni e sindaco di Longarone. Ed ecco quindi la completa intervista a firma di Martina Reolon. Pagina 6 Chiesa Locale. Risurrezione oltre la teoria del tutto a posto e ancora dalla Chiesa Locale. Valle di Cadore. Una comunità fuori dalla sua casa arrivata con Pasqua alla lettera del Vescovo ai fedeli. Continuiamo con l'Amico del Popolo. Vita Missionaria. Pagina 9. La situazione è difficile ma noi facciamo il possibile. Notizie che arrivano da diversi paesi in cui sono presenti i missionari della provincia di Belluno con i loro volontari. Alcuni amici missionari ci scrivono gli auguri in occasione della Pasqua. Il risorto offre in dono il suo amore che perdona, la sua forza che sostiene e apre l'animo alla speranza. Pagina 10. Belluno. Stazione. La provincia stanzia 300.000 euro e aggiorna il progetto originario. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la sicurezza. Sempre da Belluno, Cucciolo Marissiga, non c'è trasparenza. Nuovo intervento di Roccone Gamba che evidenziano aspetti poco chiari. I consiglieri attaccano le modalità con cui il comune si è relazionato al benefattore. L'associazione è presieduta da Antonio Gheno, Borgo Piave e TC, avanti con la promozione. Nato a ottobre 2020, il Sodalizio vuole far conoscere il quartiere cittadino. Dalla Valbelluna a Cici, taglio degli stipendi e cassa. I sindacati senza risposte metteranno in atto azioni eclatanti. Preoccupazione anche per l'idea standard. Dalla proprietà, niente certezze. Due aziende che sono presenti all'interno del comune di Borgo, Valbelluna. Rabbia e tensione stanno crescendo e senza risposte finiranno col scoppiane. Sempre dalla Valbelluna, pagina 13, ponte nelle Alpi, gettoni di presenza appello di Collarin che ha donato i gettoni alla parrocchia Limana al 2021, l'anno delle maghi. Importanti lavori anche sulle aree ricreative attrezzate. Dalla Valbelluna la minoranza candatensi di Metta, il sindaco di nuovo attacchi strumentali. Siamo nel comune di Selico. Lo scontro finito anche in consiglio sulla gestione dei servizi sociali. E ancora da Borgo, Valbelluna, l'Entiai si celebra l'anno di San Giuseppe. Feltre, pagina 15, messa in sicurezza di Villaga. Sono ripresi da alcuni giorni i lavori a tutela dell'abitato della frazione di Feltre. Il cronoprogramma prevede di completare l'intervento entro l'autunno. Feltrino, pagina 17, pedavena. Le aree sportive di Sega Bassa e Boscherai, destinate in parte all'educazione fisica, li potranno utilizzare gli studenti dell'Istituto Comprensivo Bertone. La tgeo maggiore affidata alla gestione dell'Orsera per il prossimo triennio è stata confermata quella già attiva la scorsa estate. E 5 mila euro di multa per il trasporto illecito di 20 capretti vivi. Il fatto è accaduto nella Val Belluna e precisamente nel Feltrino e nella zona di Santa Giustina. Sempre dal Feltrino, sempre Santa Giustina. Spazio al Museo per la spada di Formeggan donata al civico di Belluno. Lo storico reperto aiuterà anche a raccontare le antiche tecniche di forgiatura. Cortina, pagina 19. In autunno i lavori per il curling. Il centro federale sarà interrato all'esterno dell'Olimpico. La Giunta ha approvato il progetto economico. Costerà 3,5 milioni di euro. Sempre da Cortina, parrocchia, lavori di manutenzione. Grosso intervento, il parroco forse ne saranno necessari altri. La collaborazione con San Vito e Borca. Un cammino che faremo insieme. Da Lorenzago, Marco da Pozzo e nonno Maurilio. Un racconto che sa di sport. San Pietro di Cadore, siamo in Comelico. Così la centrale sul Cordevo, le Dolomiti Derivazioni, ha presentato l'istanza per la via, l'impianto in Val Vislende. avrebbe portata a media di 1.800 litri al secondo. Santo Stefano, dopo il virus, quali aspettative dai turisti? Un progetto per organizzare il territorio con informazione e accoglienza. Passiamo alla Gordino. A pagina 22, una frana blocca due frazioni. Cole, palua di Ornella, isolata una decina di persone. Smottamento lungo il ruo della Boa. Grones, il sindaco, commenta così. È una colata importante. Santo Maso a Gordino. Villeggianti, rimboccativi le maniche. Il sindaco ha replicato i proprietari di una casa a Canacede. I Toscani avevano protestato per i lavori del post-vaia. Ancora da completare. Rivamonte in cerca di respiro per il bilancio. Notizia quindi che riguarda il comune di Rivamonte. Ma rimaniamo in Agordino con Agordo. Sindaci di Valla, aiutateci. Alcune infrastrutture hanno valenza comprensoriale. L'ex officine Molinde, Ciott, lo stadio Ivano Dorigo e l'ex Follador. Notizia anche da Roccapietole. Malga Ciappela. Un progetto per migliorare le fognature. Siamo a pagina 25. Longarone riapre la strada tra Donia e Provagna. Senso unico alternato. Era bloccata dal 5 dicembre per due frane. Servono comunque interventi per risolvere il problema in modo definitivo. Ancora da Longarone. Sfalci e neve. Addio agli appalti esterni. Al Pago, pagina 26. Lavoro in corso per pulire il lago. La provincia si è attivata per la rimozione dei detriti. Il bacino di Santa Croce sarà liberato da rami e piante entro maggio. E sempre dall'Alpago una tragedia. Cacciatore muore cadendo in un dirupo. Purtroppo la vittima è Bruno Bortoluzzi, 69 anni, di post d'Alpago. Siamo arrivati alla rubrica ai nostri interessi. Birra, Cortina vince l'oro a Lione. In cima al podio, la bionda del nuovo marchio Made in Belluno. In gara 1632 campioni di birra provenienti da tutto il mondo. Ambiente Arpaf conferma Fogna nel lago. Centrocadore grave danno del depuratore. Ditta sanzionata. Il malfunzionamento dell'impianto di Calalzo ha ripercussioni sulla balneabilità del lago. Dalla rubrica in famiglia, il consueto articolo a firma di Don Gigetto De Bortoli. Scuola mancante. Punto sui danni. Ricerche e pubblicazioni cominciano a fornire dati e a fare qualche bilancio. Il progetto per le donne vittime di violenza continua l'alleanza per l'ospitalità nella prima emergenza. De Biasi salderemo le fatture degli alberghi che garantiscono ospitalità. Passiamo alle pagine culturali. Con pagina 32. Padola, l'ultima stua rimasta a compie 500 anni, consentiva la creazione di un lago a monte che, svuotato, dava l'impeto necessario ai tronchi per arrivare al piave. Milano, dove il cattolico impara a pensare, Monsignor Delpini, coraggiosi nell'esercitare un giudizio sul presente. 97esima giornata per l'Università Cattolica. Passiamo allo sport. Prima di salutarci, con pagina 36, lettera aperta dei gestori delle piscine, fatte presenti le necessità di una riapertura e l'importanza dei sostegni congrui. Il regmi belonese piange la scomparsa di Bruno Vortoluzzi, dall'occhi su ghiaccio il cortino eliminato in semifinale. Lasiago e ancora sci belonese, gli ultimi acuti in Coppa Veneto. E ancora si è parlato belonese nelle prove finali del Pinocchio sugli sci. Con la pagina sportiva termina questa edizione di Edicola Belun, come sempre quella del sabato dedicata alla lettura del settimanale L'Amico del Popolo. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20. A voi tutti un buon fine settimana in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Belonesi del Mondo. Vi ricordo domani l'appuntamento sempre con Edicola Belun, l'appuntamento è con la lettura del mensile Trivisani Nel Mondo. Non perdete l'appuntamento alle ore 8 e mezza, sempre su Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi Nel Mondo. Bellonesi Nel Mondo.